Allora, scusa, lo posso tenere così che è bello? Cioè, faccio così e poi lo faccio pure lui parito. Dai, fai così. Va bene, ok. Grande Andrea Perdoni per la Fondazione Castelli. Grazie, allora siamo allo sfogliatorio, pronti per scendere in campo. Prima però, in seguito riscaldamento, il Vendrio Nazionale Calciatori si aggirava uno su individuo. Ve lo presento, benvenuto, Antonio Cassano. Ciao Antonio. Come ne fotte a me, voglio? Con la Lacoste, direi tu. Ma beh, no? La Lacoste, la maglietta, sai? E' verde. La Lacoste, la marca. Attenzione, no, sono pugliesi, no, delle marche. Prima di tutto, Antonio, benvenuto nell'impianto di Tor Sapienza. Allora, dove? L'impianto di Tor Sapienza. Tor Sapienza, no, voglio, Sapienza è una parola che non esiste nel mio vocabolario. Si può fare? Con l'ignoranza che mi trovo meglio. Con l'ignoranza, no, Tor Sapienza. Siamo qui per una causa meravigliosa. Ammettila di vita. Aspettila. Siamo qui per una causa meravigliosa. E chissà come è uscito qua il sole e poi si sta benissimo. Saluto e loro sono graveste delle persone coraggiose. Prima di lasciarvi però un saluto alla bambina. Lo sappiamo che già stai cercando di vedere il bello. Si parla direttura di Beckenberg in Germania. Sicuramente questa cosa è una cosa bella e l'affetta a loro. Si è parlato di vettura osata. Che causa a Giavisco. Giappone. E so che per loro tutto il mondo è dispensabile. Si è parlato della dinamodichina. Quanta verità c'è. La gente fa sì che si trova la forza per andare avanti. Ma la foto a me. Lallo circosta. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao ragazzi. Un bacio a Giorgio. Sempre.